Una domanda sul mosso, Presidente, ci dia un aggiornamento sul mosso. Il mosso noi abbiamo avviato gli atti di revoca, loro hanno 30 giorni di tempo per eseguirlo. Presidente, il disegno di legge sulle opere PIE, noi siamo dipendenti delle opere PIE, le vorremmo dare un promemoria dell'IPAB OASI Tristore. Speriamo che questa volta veramente si faccia pulizia all'interno del settore. Noi stiamo lavorando sulle IPAB. Speriamo che tutti i rami secchi vengano tagliati perché i servizi sociali li stanno abbandonando. Noi stiamo lavorando sulle IPAB per fare in modo che le IPAB siano produttive. Grazie. Presidente, quanta creatività ci vuole per governare la Sicilia? Oggi abbiamo letto la sua dichiarazione rispetto alle spese e folli della passata gestione. Ci vuole tanta onestà innanzitutto. L'onestà di capire che bisogna agire con rigore. Un rigore che va però contro i privilegi, contro le chicche, contro le mafie, contro un sistema di potere che ha distrutto la Sicilia e che invece salvaguardi i deboli appunto che non faccia una sceluria sociale. Lei ha fatto un'aggiunta tecnica di fatto. Come fate noi ripartiti insieme? Io ho fatto un'aggiunta, lo dico sempre, di intellettuali, non tecnica. Perché non mi piacciono i tecnici. L'intellettuale invece è colui che guarda, sa dare una dimensione. E quindi politica, cioè politica come l'avrebbe intesa Gramsci. Grazie mille.